Consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, giunta municipale, cittadini e ricoltori di Cammarata, esponenti di solidarietà e partecipazione e fratelli d'Italia, uniti per difendere territorio e ambiente ed impedire ai tecnici della Regione Calabria di entrare nella discarica di Campolescia e iniziare i lavori per far conferire rifiuti alle province di Vibbo e Reggio Calabria. È davvero una storia infinita e dopo vent'anni di lotte, di battaglie per impedire che questo diventi, questo posto magnifico diventi la spazzatura della Calabria, della Prigio di Cosenza e così via, questa è semplicemente un'aggressione al nostro territorio e noi non lo consentiremo. Una discarica, quella di Campolescia, chiusa dal 2003, inoltre sul sito, pende un procedimento penale in corso che ha ufficializzato la mancanza di capacità di abbanco. È arrivato come un fulmano al cestereno perché nell'ordinanza che c'era scritta da parte, afferma da parte del Presidente Santelli si aspettava anche la pronuncia da parte del Tribunale. Il fatto di aver fatto questo blitz a noi ci lascia veramente interdetti, noi difenderemo con tutte le forze il nostro territorio e soprattutto il nostro distretto agroalimentare. In attesa di capire cosa succederà, il Sindaco di Castrovilla, Rimimmo Lopolito, è stato minacciato di denuncia dal responsabile del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per interruzione di pubblico servizio. Io ho detto, secondo me, quello che voi state facendo è un abuso, ma se devo prendermi la denuncia per interruzione di pubblico servizio lo faccio perfettamente, sto difendendo un bene del Comune di Castrovilla, sto difendendo l'ambiente.